Sono Fabrizio Baldassarre e sono il coordinatore del corso di laurea triennale in marketing e comunicazione d'azienda di questo dipartimento. Perché studiare marketing e comunicazione d'azienda in una triennale? Perché il marketing pervade di sé tutti gli aspetti della vita quotidiana, delle imprese, delle organizzazioni in genere. Perché il marketing è sempre più in una dimensione digitale, influenzata sempre più pesantemente anche dall'intelligenza artificiale, pone delle opportunità, delle sfide gestionali e delle novità dal punto di vista dell'approccio ai mercati decisamente sempre più, che necessitano sempre di più una competenza e una conoscenza piuttosto solida. E appunto a Bari è possibile nel nostro dipartimento di economia, management e diritto dell'impresa, porre le basi solide di una conoscenza, i pilastri di una competenza che poi nelle professioni diverse, nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni in genere, i nostri studenti laureati possono affrontare, magari perfezionandosi in uno dei nostri corsi di laurea magistrale o in altri ambiti per poter consolidare questa base di conoscenza. È sicuramente molto importante il marketing in tutti gli aspetti della nostra vita e i nostri studenti hanno la possibilità durante i tre anni di studio di studiare materie giuridiche come il diritto privato, il diritto commerciale, di affrontare le sfide dell'economia, dell'economia politica, le sfide dell'economia applicata, quelle dell'economia aziendale, della ragioneria, così come della statistica, della matematica, delle scienze quantitative, di quelle linguistiche e naturalmente di quelle gestionali. E in particolare il nostro corso di laurea triennale in marketing e comunicazione d'azienda è caratterizzato da quattro insegnamenti fortemente specializzati che sono il marketing che si studia al secondo anno, il marketing digitale al terzo anno, il marketing esperienziale, la comunicazione integrata di marketing che pongono i nostri studenti in una prospettiva di professionalità che rimette nelle condizioni già dopo la laurea triennale di affrontare sfide lavorative importanti. Un ultimo aspetto che sottolineo è la rilevanza della rilevazione della soddisfazione dei nostri studenti. Oltre il 92,6% dei nostri studenti esprime una soddisfazione molto elevata rispetto agli studi fatti e questo è testimoniato dalla rilevazione che viene effettuata ogni anno a cui gli studenti vengono sottoposti con un questionario di soddisfazione. Questo è un dato molto importante, anche gli sbocchi occupazionali sono sicuramente piuttosto ridevanti e ampi, per cui invito tutti a ragionare e a pensare a una prospettiva di una laurea triennale come la nostra.